Grande interesse e partecipazione a San Giorgio Ionico per la quinta rassegna dei cori delle città del Santissimo Crocifisso, un evento organizzato dalla bellissima parrocchia di Maria Santissima Immacolata che ha ospitato sabato 17 dicembre questa manifestazione che è stata promossa dall'Associazione Città del Santissimo Crocifisso. Il tema della rassegna coristica quest'anno come ha voluto il padre spirituale dell'Associazione Don Beniamino è stato improntato su Maria Madre di Misericordia e Porta dell'Avvento. La manifestazione è stata presentata da Nicola Pastore, il sindaco di San Giorgio Ionico Mino Fabiano. Davvero una bella manifestazione, io devo pubblicamente ringraziare il presidente dell'Associazione, il dottor Alessio Valente del sindaco di Gravina e anche il segretario dell'Associazione che è qui, il signor Giuseppe Semeraro che sono state l'anima di questa associazione e che ci hanno coinvolto. Io mi sono ritrovato da pochi mesi ad essere parte integrante di questa associazione ma mi sento già come se fosse a casa mia. Questa manifestazione è la dimostrazione di quanto sia sentita la partecipazione a questi eventi e poi del riscontro che abbiamo da parte di tutta la comunità san giorcese. Sono stati dieci i cori che hanno partecipato alla rassegna che rappresentano i vari comuni, il coro di Ocesano, di Cassano all'Oionio e la corale della parrocchia Santo Spirito di Laino Borgo in provincia di Cosenza e poi ancora i cori parrocchiali della parrocchia Maria Santissima Assunta di Brienza, San Girardi di Palo del Colle, Mater Ecclesia di Rutigliano, Santissimo Crocifisso di Gravina e il coro della matrice di Monteroni. Naturalmente a questi si sono aggiunti i componenti del coro di San Giorgio della Chiesa Immacolata. Nel corso della serata è stato presentato il nuovo comune che ha aderito all'associazione Nardò. Sono stati nominati ambasciatori dell'associazione Angelo Veneri e Giorgio Grimaldi di San Giorgio, nonché lo scultore locale Lino Agnini e il presidente del villaggio San Giovanni, Angelo Veneri. L'associazione delle città del Santissimo Crocifisso continua questo percorso. Questa sera abbiamo presentato anche la città di Nardò, la seconda città del Salento, dopo Lecce, che ha deciso di vivere con noi questa avventura, questo viaggio tra devozione e promozione. Il tutto in un momento assolutamente particolare per la Chiesa Cattolica, l'Avvento, così come ci ricorda Don Giancarlo Ruggeri. È bello che questo sia avvenuto anche nella cornice ormai dell'imminente Natale, quindi lo vediamo veramente come un augurio e un auspicio di gioia per tutti quanti noi. Sentire queste voci che si uniscono insieme nelle varie espressioni e nelle varie comunità è segno di quella comunione che ci deve far sempre sperare nella pace che Gesù ci viene a portare nel Natale stesso.